Ciao a tutti, sono Arianna di Cantierelettura e oggi vi leggo l'inizio di un grande classico, Un canto di Natale di Dickens. Spero che vi piaccia e che vorrete finire la lettura da soli. Il libro lo potete trovare anche nella nostra biblioteca civica. Tanti auguri a tutti quanti. Strofa prima, lo spettro di Marley. Marley era morto, tanto per incominciare, e su questo non c'è alcun dubbio. Il registro della sua sepoltura era stato firmato dal sacerdote, dal chierico, dall'impresario delle pompe funebri e da colui che conduceva il funerale. Scrooge lo aveva firmato e alla borsa il nome di Scrooge era buono per qualsiasi cosa che decidesse di firmare. Il vecchio Marley era morto come il chiodo di una porta. Badate bene che con questo io non intendo dire che so di mia propria scienza che cosa ci sia di particolarmente morto nel chiodo di una porta. Personalmente, anzi, propenderei piuttosto a considerare il chiodo di una bara come il pezzo di ferraglia più morto che si possa trovare in commercio. Ma in quella similitudine c'è la saggezza dei nostri antenati e le mie mani inesperte non la disturberanno, altrimenti il paese andrà in rovina. Vogliate pertanto permettermi di ripetere con la massima enfasi che Marley era morto come il chiodo di una porta. Scrooge sapeva che era morto? Beh, senza dubbio, come avrebbe potuto essere altrimenti? Scrooge e lui erano stati soci per non so quanti anni. Scrooge era il suo unico esecutore testamentario, il suo unico procuratore, il suo unico amministratore, il suo unico erede, il suo unico amico e l'unico che ne portasse il lutto. E neanche Scrooge era così terribilmente sconvolto da quel doloroso avvenimento da non rimanere un eccellente uomo d'affari anche nel giorno stesso del funerale e da non averlo solennizzato con un affare inatteso e particolarmente buono. Menzionare il funerale di Marley mi ha ricondotto al punto dal quale ero partito. Non c'è alcun dubbio che Marley era morto. Questo deve essere perfettamente chiaro altrimenti nulla di meraviglioso potrà uscire dalla storia che sto per narrare. Se non fossimo perfettamente convinti che il padre di Amleto era morto prima che cominciasse la tragedia, nel fatto che egli passeggiasse di notte al vento di Levante sui bastioni del proprio castello, non ci sarebbe niente di più notevole di quello che ci sarebbe se qualunque altro signore di mezza età uscisse all'improvviso dopo il tramonto in una località battuta dal vento, diciamo per esempio nel cemitero di San Paul, per impressionare la mente debole di suo figlio. Scrooge non aveva mai cancellato il nome del vecchio Marley. Anche dopo qualche anno si poteva leggerlo sopra la porta del magazzino, Scrooge e Marley. La ditta era conosciuta come Scrooge e Marley. A volte persone nuove degli affari chiamavano Scrooge Scrooge e a volte lo chiamavano Marley, ma egli rispondeva ad ambedue i nomi. Per lui era perfettamente lo stesso. Oh, ma Scrooge era un uomo che aveva la mano pesante, duro e aspro, come la cote, dalla quale non c'era acciaio che fosse mai riuscito a far sprizzare una scintilla di fuoco generoso, segreto, chiuso in se stesso e solitario come un'ostrica. Il freddo che aveva dentro congelava i suoi vecchi lineamenti, gli pungeva il naso a guzzo, gli corrugava le guance e rigidiva la sua andatura. Gli faceva diventare rossi gli occhi e violace le labbra sottili e si esprimeva tagliente nella sua voce gutturale. Sulla testa, sulle ciglia e sul mento peloso c'era uno strato di ghiaccio. Si portava sempre dietro la sua bassa temperatura. Gelava l'ufficio nei giorni della canicola e non lo si sgelava neppure di un grado a Natale. Il caldo e il freddo esterni avevano scarsa influenza su Scrooge. Nessun calore poteva riscaldarlo e nessuna brezza invernale raffreddarlo. Non poteva soffiare un vento che fosse più aspro di lui. Non poteva cadere neve che fosse più determinata. Non c'era pioggia scrosciante che fosse meno disponibile. Il cattivo tempo non aveva presa su lui. La pioggia più fitta, la neve, la grandi nel nevischio potevano vantare una sola superiorità nei suoi confronti e cioè che spesso venivano giù non senza bellezza. Scrooge mai. Nessuno lo fermava mai per strada per dirgli con un'espressione gioviale mio caro Scrooge come state? Quando verrete a trovarmi? Non c'era mendicante che lo implorasse di dargli un centesimo. Non c'era bambino che gli chiedesse l'ora. Non c'era uomo o donna che chiedesse mai a Scrooge nemmeno per una volta in vita sua la strada per andare in questo o in quel posto. Perfino i cani dei ciechi sembrava che lo conoscessero e quando lo vedevano arrivare trascinavano i loro padroni dentro un portone o un e poi agitavano la coda. Come per dire calo padrone è meglio non avere occhi che avere il malocchio. Ma che gliene importava Scrooge? Era proprio ciò che gli piaceva aprirsi la strada sul cammino affollato della vita ammonendo qualunque umana simpatia di tenersi a distanza. Era ciò che più gli andava genio. Una volta fra tutti i giorni dell'anno la vigilia di Natale il vecchio Scrooge stava lavorando nel suo ufficio. Era una giornata fredda sinistra pungente nebbiosa ed egli poteva sentire fuori nel cortile la gente passeggiare in su e in giù e picchiarsi il petto con le mani e pestare i piedi sulle pietre dell'astrico per riscaldarsi. Gli orologi della città avevano appena battuto le tre ma era già completamente buio. Del resto non c'era mai stata luce in tutta la giornata e nelle finestre degli uffici vicini luccicavano le candele simili a macchie rossastre sulla densa aria bruna. La nebbia si infiltrava attraverso le fezzure e la serratura e fuori era così densa che per quanto il cortile fosse uno dei più angusti le case di fronte non erano che puri fantasmi. Vedere quella nuvola scura scendere lentamente in basso ed oscurare tutto quanto faceva pensare che la natura vivesse a due passi di lì e stesse fabbricando birra su larga scala. La porta dell'ufficio di Scrooge era aperta così da permettergli di tenere d'occhio il suo impiegato che stava coppiando lettere in una celletta sinistra, una specie di cisterna. Nella stanza di Scrooge c'era un fuoco molto piccolo ma quello dell'impiegato era tanto più piccolo che sembrava fatto di un solo pezzo di carbone. Egli però non poteva rifornirlo perché Scrooge teneva la cassetta del carbone nella sua stanza e non appena l'impiegato entrava con la paletta in mano il padrone prediceva invariabilmente che la loro separazione era ormai inevitabile. Pertanto l'impiegato si stringeva intorno al collo la sua sciarpa bianca e cercava di riscaldarsi alla candela, sforzo nel quale non essendo uomo dotato di una forte immaginazione non aveva successo. Buon Natale zio, Dio vi protegga! gridò una voce allegra, quella del nipote di Scrooge che gli era piombato addosso così rapidamente che quel saluto era stata la prima notifica che avesse ricevuto dal suo arrivo. Bah, disse Scrooge, fesserie! A forza di camminare in fretta nella nebbia e nel gelo questo nipote di Scrooge si era talmente scaldato da essere tutto un fuoco, aveva un viso rosso e simpatico, gli occhi scintillavano e l'alito fumava. Natale una fesseria zio, disse il nipote di Scrooge, sono sicuro che non lo pensi una cosa così. Certo che la penso, disse Scrooge. Buon Natale che diritto hai tu di essere allegro, che ragione hai tu di essere allegro, sei povero abbastanza. Andiamo via, rispose allegro il nipote, che diritto hai tu di essere triste, che ragione hai di essere scontento, sei ricco abbastanza. Scrooge non trovando lì per lì una risposta migliore, disse un'altra volta. Bah, poi soggiunse, fesserie! Non ti arrabbiare zio, disse il nipote. E come potrei non arrabbiarmi, rispose lo zio. Quando vivo in un mondo di cretini come questo, buon Natale. In giro, augurare buon Natale. Che cos'è il Natale per te, se non il momento per pagare i conti senza avere i soldi? Il momento in cui ti trovi più vecchio di un anno e non più ricco di un'ora? Un momento per fare il bilancio e vedere che ogni voce nel giro completo di 12 mesi è un passivo. Se potessi fare di testa mia, disse Scrooge indignato, ogni idiota che va in giro con un buon Natale in bocca dovrebbe essere bollito insieme al suo padding e sepolto con un paletto di agrifoglio che gli trafigge il cuore. Proprio così. Zio, supplicò il nipote. Nipote, rispose se veramente lo zio. Passa il Natale a modo tuo e lascia che io lo passi a modo mio.